Amici di MarciGames, bentornati su Golf. Oggi Alessia mi ha mandato una mappa su Insta e mi ha detto Marci, per favore, potresti gentilmente giocare ad OnlyJets, che è una mappa full jetpack. Non l'abbiamo giocata questa, è vero? Perché so che abbiamo giocato una mappa jetpack, mica che avevo scelto la stessa. Non mi sembra. Comunque questa qui, Nico, è praticamente una di quelle classiche mappe in cui praticamente usare solo il jetpack. Io già ho perso. Ancora che ti faccio in one, praticamente. Sei pronto? Dici? Io non ce l'ho fatto. Ti faccio in one, cosa succede? Musica, sei fortissimo per me. Comunque me l'ha mandata e mi ha detto che lei ci ha messo 517 colpi. Eccoci qua. 517 ha detto che ci ha messo. Mi fa molto piacere, Alessia. Spero che non ci metteremo ancora gli stessi colpi. No, ancora sono il primo colpo. Anch'io per adesso. No, era da andare giù. Eh, l'ho persa io. Sono ancora al first try? Non mi dire che la fai al primo colpo perché veramente, guarda. Guarda, se succede qui tutto a TS non parlo più. No, no, dobbiamo fare GTA dopo, eh, weh. Ok. Ho avuto sfortuna, però sono ancora al primo colpo. Ah, praticamente c'è un punto in cui se prendi un portale ti riporta all'inizio, però non ti resetta il colpo. Quindi ancora sono al primo. Ok, ho capito. Eh, io prima non avevo visto che dovevo andare giù. Purtroppo quello mi ha un po' fregato. Vabbè, ci sono dietro comunque. Oh, porca miseria. Ok, sono ancora safe, credo. No, mi ha fatto respawnare, niente. Sono al secondo colpo. Ok, io sono al terzo adesso. C'è un portale, hai detto. Oddio, c'è una paura best che lo prenderò nel portale. Ora sto scendendo dai buchi. Eh, ma non dipende molto da te. No, ho capito cosa dici. Zio per me, difficilissimo. Eh, va un po' a cubo. Dici? Cosa trova best? Forse è per quello che ha fatto 512 colpi. Sarò mai? Non c'è la buca per respawnare. Eh? Niente. Eh, Nico? Aiuto. Non mi bastava il jetpack. Eh, hai calcolato male qualcosa. No, è quando mi ha fatto respawnare. Ah. Io vedo che queste mappe qui sono veramente difficili. Questa qui, raga, non contatela. Chi fa la classifica, non contatela nei golf mapper, che in realtà è un golf normale. Vabbè, golf ma poi se lo volare, come vuoi chiamarlo. Ehi. Cos'è che puoi fare ultravolare? Sai che è un'idea? Ok, questo l'ho fatto. Qual è il tuo record? Eh, sono ancora qui. Sono ancora quello del portale. Ok, anche il mio, quello è il mio record. Niente, sono tornato ancora indietro. Cioè, secondo me l'unica è tenersi il jetpack. Eh, io ero finito. Però ho preso il portale giusto, se non altro. L'hai preso? Sì. Landia. Ah, oddio, c'è un jetpack, non l'avevo visto. Ho 22 di jetpack. Basta, meno di meno. Basterà? Sì, 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 sì. Uff, che ansia, ragazzi, mamma mia. Ok, ce l'ho fatta. Dimmi che è difficilissimo da qua. Oddio, c'è un coso? Ah, c'è il jetpack. No, un'altra roba di cubo. Ah, ok, però è rifattibile. E qua? Oddio, Nico, ma è difficilissimo. E ora? Madonna. Non ci arrivo. Non ci arrivo di un pelo. Nico, non ci sono arrivato di un pelo, non ci credo. Io sono fatta, sono avantissimo. Non ci credo. Non morire, dai, non morire. C'era una zona dove praticamente c'era tutti i rimbalzi di target mirati. Io non so perché, non mi sono fidato. Ho usato il jetpack e non l'ho preso. Allora, io non la vedo così difficile sta mappa, in realtà. È che non sono ancora arrivato dalla tua parte, in realtà. Ma non è difficile, perché ci sono tipo dei mini checkpoint. Ok, sono di nuovo con 22. 22 di nuovo. Non ci credo. Mamma mia, il pelo, raga. No, non potrei spawnare. Ogni, qualsiasi cosa che tocchi, respawni. Non ci credo, ho toccato dentro. Come faccio qua? Dove sei morto? Eh, dove c'è il secondo portale viola piccolino. Però non sono riuscito ad entrare nel cosino. Io sono indietro rispetto a te. Però per adesso ho l'unpleno in queste mappe qua. L'ho sempre vinto io. Quindi devo cercare di prendermi. Poi questa posso dirlo, va fortuna, raga. Quindi stai dicendo che sono fortissimo? Non vanno, fortuna. Sono skills, skill di memoria. No! Perché mi ha fatto rifare? Dai, zio! Ma che dici? Ok, perché se tocchi le pareti non va. Vabbè, ci sta, ci sta. 23, 2 più 3, 5 più 2, 7. Ci sta. Ok, sono di nuovo qui. Sono al target. Sai che c'è un modo, mi sa, per lo schipparsi un po' di mappa? No, dai, non facciamolo, Dico. Non mi sembra il clave. No, non lo faccio, però lo so, per fare per sbaglio. Perché dove c'è tipo, è presente la piattaforma che si apre e si chiude prima del drop? Lì mi sa che ti puoi fermare. Perché ci ho fatto ad arrivare. Sono al punto nuovo io. Sono in un punto nuovo. Eh, lì, devi stare attento ai cosi che rotiano. Ah, oddio, c'è un backup, c'è. E dopo non c'è più. Solo per quella parte del canciallo ce l'hai. Ok. E là. Ce l'ho fatta, l'ho fatto. E mo? C'è un cannone, ok. Sono a un cannone. Che ansia, oddio. Ah, qui dove ti dicevo essere tutto mirato, ma io ho premuto per sbaglio il jetpack. Infatti ho fatto il jetpack io. No. Ma che dici? No. No, zio. E lui ci ha dato il jetpack, scusa. Che cosa serve il jetpack allora? Io non lo so. Ma sto clown maledetto! Ma come si permette? Ok, sono in quel punto linico. C'è un portale sulla mongolfiera. Che io sicuramente non vedrò. No, lo vedi, è azzurro. Azzurro su blu. Però dopo mi ha fatto respawnare, non so perché. Ok. Ci sono. Eh, il primo target e poi dopo c'è il jetpack. E poi vai dritto nella mongolfiera. Ah, l'ho visto. Ma dopo non ho capito perché mi ha fatto respawnare. Quindi, boh, forse non devi toccare qualcosa. Eh, ehm... Ah, c'è un checkpoint. What? No, mi ha fatto tornare indietrissimo. Va bene, raga, va bene, dai. Va bene. No, non ci credo, Nico. Oddio, poi c'ho il backup. Posso andare qua dentro, raga. Posso andare qua... Sì, devo rifarmi un bel pezzo, raga. Però tecnicamente dovremmo esserci lo stesso. Ok, sono di nuovo al portale dentro la mongolfiera. Non ho preso il portale dentro la mongolfiera. Non ci posso credere. Alessia, Alessia, Alessia. Mannaggia a te, mannaggia. Ma io perché ho cercato di farsa mappa? Non è allo stesso punto, Nico. Solo che non riesco a farlo. No, non sono dietro l'idea. Tanto la vuoi far esponare a caso, fidati. No, io ho cercato un'altra... Cioè, sono tornato qua perché avevo il checkpoint. No, mi ha beccato il buco nero. Il buco nero non è da beccare? Eh no, è da andare sotto, Nico. Sotto? Non ho capito la strada, allora. Io l'ho capito. Vediamo se me lo farai fare e non mi farai esponare. Ti prego, non mi farai esponare, per favore. Ma è la buca! Ma sì, ma c'è la buca lì, mi sa! C'era quasi arrivato! Non ci credo! Dopo il buco nero? Eh sì! Però non ce la farò più a farlo, sono sicuro. Perché sono responato? Non ha toccato niente. È troppo difficile. Cioè, serve troppo boost. Come fai ad arrivare senza boost? Ma sei responato all'inizio o hai il check? No, ma sono ancora il check io. No, non ci credo. Eh sì, secondo me è la buca finale questa. Nico, mi sa che è la fine quella. Ma dove sono arrivato? Io sono arrivato alla fine, mi sa. Adapo il buco nero che non so come evitare. Che devi fare? Ma devi fare giù. Eh, c'è tipo una buca lì. Poi su... Ah, giù, su, giù, su... E poi tipo al centro. No, al centro ti porta un portale. E ti spara... Hai capito? È la fine comunque. Sì, è la fine. E dove bisogna andare dopo? Dove c'è una mongolfiera, secondo me. E dai controllo. Solo che qui come fai? Devi andare giù... E va bene, qua fa così. Poi da qui andare su è difficilissimo. Ma sai che secondo me puoi rimbalzare sul muro? È la fine, è arrivata la fine. Non ci posso credere. Eh sì, c'è la buca qua. Ah, zio Pera. Eh sì, è qua. Ok, facile. Siamo presi questo momento di pausa. Ora facciamo tutto il primo colpo, Nico. Mm-hmm. Giusto? L'importante è crederci. No? No, no. Sono il primo target, io. Mentre tu osservavi le ultime cose sono già ripartito. Vi dico quando sono lo spawn, eh? Non mi ha dato il target, non mi ha dato. Sono lo spawn, io. Mi ha fatto respawnare di nuovo! Ma basta! Allora! Eh! Dimmi che ce l'hai fatta. No, è arrivato alla fine. Ma non mi è passato il boost per dieci di... È uguale. Per dieci, anche a me prima. Uguale. Non è difficile, raga. Fidatevi che non è difficile. Non è difficile. Non è anche facile. Abre di sesamo, grazie. No. Non farmi respawnare. Ok, sono al viola. Viola? Cioè, non dico praticamente failare un click. Mi hai fatto così, poi si sale. Ecco, l'ho avuto il click. Sono al blu. Ci sono. Però non devo sbagliare, però la mongolfier. Non ho un'idea. Non devo sbagliare la mongolfier. Ok. Ma manca a provarci. Cioè, neanche a provarci. Non hai esponato o ti ho portato indietro? No, sono esponato. Allora, qua. Poi così. Poi così. Qua non va sprecato nulla. Quindi si fa così. Dicolo, ho fatto. Che dici? Ho fatto. Non so se basta. Ma non mi basta. Non mi basta. Non ci arrivo. No, ci sono superato. No. 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 Non l'ho fatto. Dico, sono arrivato nell'ultima mongolfier. Ma... Sì, non hai capito cosa è successo? Eh no. Cioè, devi tipo... Non è facile il pezzo finale dopo che ti faccio il cannone. No, sono arrivato al coso verde. Nel chilling proprio. Eh, va bene. Poi, dopo il coso verde? Non so neanche come spiegarti come si fa, perché non te lo so neanche dire. Non riesco a superare sta parte. Guarda, non lo dico perché porta male, però... Spero che tu lo finisci. E la settima volta che ti provo. No, la settima si fa. Ma perché il 7 è il numero bello. Ho toccato qualcosa, intitolo Stuck. È finito. Ok. E dopo che mi spara? Sono qua che mi spara. Devo salire? Devi salire, ma ti becchi la mongolfiera e ti fa cambiare direzione. È vero. È successo proprio questo. Uguale. Ah, devo entrare nel cestino? E come fai? Io non so... Che ne so? Io non so come si faccia. Eh, devi andar lì tutto spammando, probabilmente. Non ne posso più. Basta. Anche tu ci sei arrivato, quindi. Sì. Eh, ma perché ormai è tutto chill. Eh, ho già sbagliato il primo salto. È il secondo pure. Sono al viola. Non mi ha mai fatto responare. Figlia di... Ormai è una questione dei principi. Niki, devo finirla sta mappa. Non mi interessa. Chiediamo fra una decina di minuti. Io non ho interesse. Io finché non arrivo alla parte verde non parlo più. Se tocchi la pedana gialla ti fa responare? Non lo so. Ultimamente la sto evitando. Ma perché non mi ha preso il boost? Che è successo? Ho bugato tutto. E? Non posso più giocare. Perché? Perché ho trovato un punto in cui... In cui non ti fa responare ma non posso più partire. Quindi tutto nelle mie mani adesso? Mi vedi fra poco, credo. Dove sei? Mi sono le eliche. Le eliche? Ah no, sei avanti. Sì, ti ho superato, non so come. Ma io come posso liberarmi da qua? Sono la mongolfiera. Sono la mongolfiera. Peccato. Se vuoi facciamo che valga solo sto try qua. Ci sono, Nico, sono di nuovo qua. Ti vedo, ti vedo, rinunciato. In modo che si potrebbe zoomare tutto. Piano, piano, piano! Ci sei? Dovevi entrare sotto. E mo? Eh, hai perso anche tu. Ci è successo quello che è successo a me. Quanto vai di jetpack? Nove. Però contiamo come se valga questa, vero? Aspetta, ti stai buggando? Puoi colpire ora? Io posso sempre colpire. Io ti vedo, ti vuoi stai cadendo. Cosa sta succedendo? Sì! 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 C***o! C***o! Sì! Sì! Voi l'ho finita prima? Vai a cagare, vai, io l'ho finita almeno. Ciao a tutti.